Via Fratelli Berra Un carro attrezzi traenante un tir destinato all'officina e un altro mezzo pesante si sono fermati uno di fronte all'altro. Detto il tir è sopraggiunto un furgone il cui conducente, invece di fare retro, ha pensato di compiere un'inversione finendo con le ruote posteriori del mezzo nel prato sottostante. Sul posto sono intervenuti i cannavesi soccorso per il recupero del furgone e i carabinieri. Nessuno è rimasto ferito, ma la strada è rimasta bloccata al traffico per alcune ore. Nessuno è rimasto ferito, ma la strada è rimasto ferito. Nessuno è rimasto ferito, ma la strada è rimasto ferito, ma la strada è rimasto ferito.